In questa video recensione andiamo a scoprire alcune tra le incarnazioni della penna a sfera Parker Jotter, quali differenze tra le singole varianti, quanto costano attualmente, la mia prova con le immancabili opinioni personali. Parker è un produttore di penne indubbiamente storico, apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo. La Jotter in particolare è probabilmente il modello più iconico, almeno tra le penne a sfera. Nasce nel 1954, quindi appena pochi anni dopo la diffusione sul mercato della prima penna a sfera Bic, ma Parker si differenzia proponendo una penna maggiormente elegante, che in qualche modo si rifà, si ispira alle sue stilografiche. Quindi un prodotto destinato a chi desidera la comodità di una penna a sfera senza trascurare però l'aspetto esteriore. Sebbene estetiche e funzionalità siano pressoché invariate nel tempo, i primi modelli avevano un fosto in nylon senza un anello frontale di protezione e la clip ancora non aveva questa tipica e riconoscibilissima forma di freccia. Poi nel corso del tempo, con il sosseguirsi dei vari modelli, si è arrivati a quella che è la forma attuale. Adesso andiamo a descrivere alcuni tra questi modelli. Partiamo dalla più semplice ed economica Jotter Originals, da sempre considerata da molti come una sorta di penna a cui fare riferimento e a cui ispirarsi. Pratica e funzionale, fusto in metallo e plastica, con un clic distintivo ben udibile, ha un costo che può variare. Di base una singola penna può venire intorno agli 8 euro, a volte un pochettino di più per alcuni colori, 12 euro se la si acquista con questo kit di refill di ricambi. A proposito, i ricambi della penna Parker Jotter, un altro merito di questo particolare modello è proprio aver introdotto sul mercato questa tipologia di ricariche che sono particolarmente apprezzate perché hanno una buona durata, funzionano bene e attualmente sono impiegate da tantissime impiegate e prodotte da tantissime altre aziende. In alcuni set particolari, questo per esempio è un set, un'edizione speciale dedicata ai colori di anni 90, viene intorno ai 20 euro, quindi di diciamo stiamo parlando di circa 5 euro a penna. Ma comunque i prezzi sono attuali, quelli che ho rilevato in questo momento e possono variare nel corso del tempo. Ho già detto, la penna con i refill viene 12 euro. A proposito, qui nel box informazioni sotto il video trovate anche i link per poterli acquistare online a costi ragionevoli. Le Originals normalmente arrivano in semplici blister, tranne in caso di edizioni speciali o particolari offerte che prevedono la scatola regalo. Questa è una scatola regalo da quattro penne, molto carina, elegante, adatta anche per dei regali. A proposito, le Jotter sono forse le penne più indicate per i regali, non costano tantissimo e possono essere anche personalizzate. Questa è nera, ma se andiamo a prendere un colore più chiaro c'è la possibilità in molti casi di scrivere un logo aziendale o comunque sia una dedica. La struttura è semplice, ma sempre elegante, con la parte superiore in acciaio satinato, tutta completamente in metallo, questa bella clip assolutamente funzionale, un pulsante di scatto davvero perfetto, affidabile e la parte inferiore è in plastica con vari colori. Nella parte proprio finale, vicino alla punta, abbiamo un anello di rinforzo per evitare che, forzando la penna sulla carta oppure andando, insomma potrebbe capitare che cada, per evitare che si vada a rompere il fusto, rendendo la penna inutilizzabile. Questa è la Jotter Originals. Abbiamo detto il costo può andare da 5 euro fino a circa 10 euro, ecco, o un pochettino di più nel caso in cui si vada a comprare con dei refill. Il refill, come ho già detto, è di tipo standard internazionale G2, in questo caso con una sfera da 1 mm, misura media. L'inchiostro è ISO 12757-2, a questa certificazione significa che è un inchiostro fatto con delle caratteristiche tali da risultare molto resistente sulla carta e quindi potrebbe essere utilizzato anche per la stesura di documenti importanti. È fatto anche il refill in Francia come l'intera penna. Andiamo a scrivere refill standard G2. Da alcuni detto anche semplicemente Parker Style, proprio riferendosi al fatto che questi refili sono stati introdotti dalla Parker. Proseguiamo la rassegna con la Jotter Core. La Jotter Core è una Jotter interamente in metallo, anche questa parte del fusto, che in questo caso si vede di colore blu, ma è disponibile in molti altri colori, è totalmente in metallo, decisamente più resistente, ma anche più costosa. La si compra intorno ai 15 euro o poco più. Non hanno l'anello in punta, infatti tutte le penne Parker in metallo, le Parker Jotter in metallo, si riconoscono dalla mancanza di un anello in punta perché effettivamente non ce n'è bisogno. Stiamo parlando di una penna che è decisamente più resistente, questa è la Jotter Core, la parentesi Metal, il costo è intorno ai 15 euro, anche questa ha una ricarica di tipo G2 all'interno. Praticamente è identica, l'unica cosa è che è più resistente in quanto completamente in metallo, il click e il pulsante di scatto funzionano allo stesso e medesimo modo, ma però si avverte insomma questo questo peso in più che comunque rende la penna non scomoda e anzi maggiormente piacevole per alcuni versi tenerla in mano. E andiamo poi successivamente alla Stainless Steel, questa è una penna completamente in acciaio satinato, sia nella parte superiore che quella inferiore, in questo caso ho inserito un refill della Schneider, il 7,55 con punta XB è molto più spessa, molto più grande, penna elegantissima con questo colore acciaio e la clip è disponibile sia nella versione dorata come si nota qui che nella versione argento, però è davvero tra le Jotter la mia preferita. Questa è la Jotter Stainless Steel e il prezzo attualmente diciamo che è intorno ai 18 euro mi pare, insomma, si può acquistare per questa cifra, è un pochettino più costosa rispetto alle altre, però è davvero una gran penna. Sia questa che queste qui ho visto che arrivano con la confezione regalo, quindi sono anche ottime per fare dei regali appunto ad altre persone rispetto ad una Jotter base che è sicuramente più economica, davvero una bella penna. E infine andiamo a parlare della Jotter XL. La Jotter XL ha una dimensione maggiore, mettiamola a confronto con questa qui perché sostanzialmente entrambe sono completamente in metallo, è il 7% più lunga ma anche il 7% più larga. è una penna maggiormente adatta a delle mani che possono essere medie o più grandi. Effettivamente alcune persone si lamentano del fatto che la Jotter normale sia un po' piccolina, poi dipende sempre della dimensione delle mani e delle abitudini della singola persona. E quindi avere comunque una penna che risulta in qualche modo più importante nelle dimensioni e anche nel peso, a qualcuno risulta piacevole. Una penna, anche questa rientra nella fascia di quelle un pochettino più costose, con un prezzo che va dai 18 ai 20 euro, ma si può arrivare anche a 25 nel caso di edizioni speciali. Questa è la Jotter XL, abbiamo detto un prezzo che è circa 18-20 euro. In particolare mentre queste altre le ho acquistate su Amazon e come ho detto più sotto vi indico nel box di descrizione il link per poterle comprare, questa ho trovato un prezzo migliore sul negozio Parker Shop EU, quindi sul negozio europeo ufficiale della Parker, veniva un pochettino meno. Certo ci sono le spese di spedizione ma ho comprato tante cose insieme, quindi diciamo che mi è convenuto prenderla lì. Davvero una penna molto bella, anche questa. Però ripeto, per una penna da utilizzare tutti i giorni, da portare sempre con sé, resistente, piccolina, occupa poco spazio, è facile da inserire in una tasca, in una giacca, in una borsetta. La mia preferita rimane questa, la tipica penna EDC, Eury Day Carry, la penna da utilizzo continuo. Questa qua invece la reputo un pochettino più formale forse, comunque è disponibile in vari colori, come ho detto è completamente in metallo, una signora penna. Questa qua è quella che io preferisco. A proposito, per finire il discorso, la carta su cui sto scrivendo, così per informazione, si tratta di un quaderno della giapponese Muji, un quaderno abbastanza economico in formato B5. In conclusione, sono delle penne valide, delle penne che hanno un costo ragionevole, sono iconiche, sono riconoscibilissime, sono penne che conoscono davvero un po' tutti. Quando si va a fare un regalo, se non si vogliono spendere centinaia di euro per chissà quale penna di russo, ma si vuole fare comunque un regalo che possa risultare apprezzato, con poche decine di euro, addirittura meno di 10 euro nel caso di alcuni modelli, la Parker Jotter può rivelarsi una preziosa, un'ottima risorsa. Io spero di aver fatto una cosa gradita con questo video. A questo punto vi saluto e vi dico che se volete rimanere aggiornati con i miei prossimi video, potete iscrivervi al canale. Una buona giornata a voi, grazie della visione, ciao e a presto.